Il Taranto si inceppa anche contro il Manfredoni al Miramare, terza partita consecutiva senza successo. Finisce 2-2 con i Sipontini in rimonta due volte. Il Taranto nel secondo tempo per la cronaca ha giocato quasi tutta la ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione di Palumbo, Reo di aver colpito un avversario mentre si tornava a centrocampo dopo il gol del primo pareggio dei padroni di casa. Ma andiamo alla cronaca rispetto alla partita giocata contro il Gragnano. Ci sono due novità, il ritorno di Galdian che comunque risolterà tra i migliori in campo. Lì davanti Alexic e Pera vanno a fare il tandem d'attacco. Per il resto tutto come prima con Corso e Palumbo, Mezeali dietro Bilotta e Ligotti esterni con Daiello e Rosania. Difensori centrali ancora assente Diachite per infortunio. Andiamo alla cronaca per la verità molto scarsa nel primo tempo. Pronti via, il Taranto passa in vantaggio a causa di un'indecisione difensiva dei padroni di casa. Il pallone finisce sui piedi di Alexic che da fuori aria beffa l'estremo difensore Sipuntino-Grasso con un tocco debole che comunque consente al Taranto di passare in vantaggio. La formazione ionica ministra, il Manfredonia cresce ma il Taranto non corre rischi. Si deve arrivare fino al ventunesimo per vedere un'altra occasione da rete degna di essere raccontata con una palla goal per il Taranto capitata a Corso magistralmente servito da Pera. Il numero 4 del Taranto si trova praticamente a tu per tu con l'estremo difensore di casa che riesce a chiudere lo specchio della porta. Con il Taranto in vantaggio per 1-0 si va al riposo. Sugli spalti ci sono anche alcuni tifosi rosso-blu giunti per l'occasione dalla Capologo Ionico. Circa una quarantina. Nella ripresa la musica cambia perché il Manfredonia prende in mano le redini dell'incontro. Al quinto minuto potrebbe già arrivare il pareggio con la porta che si trova praticamente tutto solo davanti a Pellegrino che è bravissimo a deviare la conclusione ravvicinata del numero 9 Bianco Celeste in calcio d'angolo. Il gol del Pari giunge un minuto più tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo contatto in aria tra i due numeri 5 della partita. Vale a dire Daiello che atterra russo. Il tecnico del Taranto recriminerà su questo calcio di rigore che il signor Tremolata di Monza concede. Pertanto sul dischetto si porta la porta che batte Pellegrino e pareggia 1-1. Mentre le squadre tornano a centrocampo, parapiglia nel cerchio, Palumbo colpisce sul volto Vatiero e l'arbitro vede tutto perché lì ha due passi e gli mostra il rosso diretto. Taranto in 10 uomini. Alla decimo minuto c'è ancora il Manfredonia, pericolosissimo in avanti una gran parata di Pellegrino, questa volta sulla conclusione di Mendola. Alla dodicesimo c'è il primo cambio, c'è da dire che in panchina per il Taranto c'erano i due nuovi, Giannotta e Favetta giocherà soltanto quest'ultimo i sette minuti finali. Alla quindicesimo c'è una palla-goll per il Taranto che nonostante l'inferiorità numerica si presenta con un uomo davanti al portiere di casa. Galdean inventa per Crucitti che però stranamente non conclude, preferisce servire un compagno di squadra ma l'azione sfuma così. Davvero ghiotta l'occasione sprecata dal numero 8 che però si rifà due minuti più tardi battendo una punizione dal limite dell'aria in maniera magistrale, punizione che si era procurato pera atterrato al limite da Russo. Il sinistro del numero 8, Rosso-Blu, consente al Taranto di tornare in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Quinto gol stagionale per Crucitti che è così di fatto il capocannoniere dei Rosso-Blu. Al ventesimo, ovvero tre minuti dopo il secondo vantaggio del Taranto, c'è un gol annullato alla forgia per il Manfredonia. Il tiro di De Giosa, Pellegrino non trattiene, la forgia si avventa sul pallone o scaraventa in rete ma l'arbitro, Tremolada, annulla per segnalazione dell'assistente Belzanti di Bari che vede una posizione irregolare proprio del calciatore d'attacco, Sipontino. C'è da notare soltanto al trentanovesimo l'esordio di Favetta con il numero 24 al posto di Pera e poi al primo dei quattro minuti di recupero il Manfredonia trova il gol del pareggio, Rinaldi entrato nella ripresa, Scodella in aria, un traversone per la testa di De Giosa che è preciso nella sua conclusione, fissa il punteggio sul 2-2 finale. Nel dopogara parlerà per il Taranto soltanto il tecnico Cazzarò.